La fine alla tratta di persone inizia con la prevenzione. Le reti Talitacum coordinano attività di prevenzione a livello locale e internazionale. Ciascuna rete nazionale o regionale adatta il suo approccio al contesto locale, ma tutte si concentrano su tre aree principali. Prima, sensibilizzazione, formazione e campagne di informazione. Queste iniziative sensibilizzano il pubblico sulla realtà della tratta, condividendo informazioni e buone pratiche. Contribuiscono a dare maggiori strumenti ai leader delle comunità, il cui ruolo è fondamentale per identificare possibili casi di tratta. Inoltre, favoriscono la formazione di reti che rinforzano la consapevolezza e motivano l'azione. Seconda, lavoro di prevenzione con gruppi a rischio. Fanno parte di queste iniziative le attività di sensibilizzazione mirate a gruppi specifici, come coloro che vivono situazioni di vulnerabilità al fine di identificare potenziali vittime di tratta, fornendo ai singoli gli strumenti e le informazioni necessarie per proteggersi. Terza, sostegno i sopravvissuti alle loro famiglie e comunità. L'obiettivo è impedire che le vittime, una volta messe in salvo o liberate, cadano nella disperazione, si sentano in colpe o in difese. I sopravvissuti vengono accompagnati durante l'intero percorso di cura e vengono aiutati a prendere decisioni salutari e vivere con dignità ed acquisire autonomia per la realizzazione della propria vita. Per prevenire la tratta di persone, Talitacum individua quei sistemi politici, culturali ed economici che consentono lo sviluppo della tratta e si impegna per dei cambiamenti efficaci e sostenibili. La rete chiede politiche e leggi che prevengano queste attività criminali, aiutino i sopravvissuti e processino penalmente contro i trafficanti. Inoltre, insieme ai nostri collaboratori, continuiamo ad impegnarci affinché queste leggi vengono emanate e messe in pratica a livello locale e nazionale. Talitacum è convinta che una società libera dalla tratta di persone e da ogni forma di sfruttamento è possibile. La prevenzione, generando azioni che trasformano idee e comportamenti, è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.